ora kai fai maim a io pervai kai fai maim reine lasciami qualcosa che sto senza armi e senza munizioni c'è le munizioni pesanti reine nooo cazzo cazzo ok li vedo stanno a salire la stanno in due nooo cazzo 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 contributors qua 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 due nella casa uno sopra uno sotto no, cazzo, la mia chiuso per lo still Arrivata gente dietro dietro Faccio una zip per la save Fatta male Attenti quelli di sopra C'è un brantare super low Io pure Questa è il tempo di farmi di nuovo Hanno una mira di nerda Una è qua sotto a danny Aspetta la vista Dove do- raga sto a 13 lasciatemi un rotto Lasciamolo per favore Treina Sobra Usado due o tre Sì No, mi sono perso un Pathfinder e l'avevo lasciato come uno di vita. Eccolo. No, 17. Porco Dio, se l'ultimo team non sono... Cioè, di solito quando sto a così tante kill, alla fine sono sempre uno o due. Questi adesso scommetto. Eccoli, stanno là, stanno là. Eh, non andarci dritto, non andarci dritto. Facciamo il giro da sotto. Faccio una zip qua per andare su giù. Non vissi almeno due. Facciamo una cosa, raga, a meno che non siamo sicuri che sono tre. Io ne uccido uno e lo confermiamo e lasciamo che resta. Aspetta, fa vedere prima se c'è un punto per restare. No, ok. Spero che siano in tre, allora. Rain, mi raccomando, non li uccide, eh. Stanno sopra in tutto. In teoria. Mi sono spostati i campers. Eccolo. Perché sono dei campers di merda, chissà dove cazzo si sono messi adesso. Guarda lì. Ma mi sa che è solo uno. No, io ne ho visto almeno due. E' un Wastfinder. Con una mira non buona, troppo altra. Questa. 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 Spectale. Questa. 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 Ho sc皮 와서 buoni. Questa. 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 Liotto. Questa. Questa. Questa parte. Grazie a tutti